Siamo con il commissario romano, commissario straordinario della provincia di Messina. Quali sono i progetti di rilancio di Taormina anche nell'ottica appunto di Perla dello Ionio e di una delle punte di diamante della provincia? È un momento difficile ed è un momento difficile in particolare per l'organizzazione della provincia che sta per trasformarsi in libero consorzio. Bisognerà prima di tutto vedere se Taormina sceglierà di formare un suo libero consorzio o se rimarrà nel libero consorzio diciamo dell'area messinese della Valdemone. In un secondo momento naturalmente ci si vorrà il problema del rilancio però c'è un punto in cui già da ora da subito bisogna lavorare perché per statuto il presidente della provincia di Messina è parte del comitato di Taormina Arte insieme al sindaco di Taormina che lo presiede e al sindaco di Messina. Questo perché Taormina Arte nasce dall'antica manifestazione della rassegna del cinema di Messina e Taormina. Certamente parlare di rilancio è difficile quando le risorse sono sempre così a stringere come si è appena chiarito, però si può. Si può soprattutto inventando un modo diverso di fare spettacolo che non è quello dei grandi numeri, delle grandi cifre, dei grandi eventi e basta ma è quello della riflessione. Riscoprire lo spirito originario della rassegna per esempio è quello che si farà quest'anno anno in cui cade il sessantesimo della rassegna di Messina e Taormina. La perla del turismo siciliano ma non a caso è un comprensorio non parlo di provincia ma di comprensorio nel quale insistono anche le isole Olie, l'Etna, Catania, le città del patrimonio UNESCO, le otto città di cui Catania è parte, del Barocco e tutto il sud-est siciliano. Questo è un comprensorio allargato che comprende quattro province e non solo due nel quale Taormina ha una posizione baricentrica però è collegata con difficoltà, la ferrovia è quella che è, non è facilmente accessibile, è perfetta per un turismo d'elite ma ha bisogno di un sostegno delle località intorno per il turismo più ampio, più generale ed è importante che tutti possano guadagnare in un'ottica di, come dicono gli lesi, win to win in cui Taormina e gli altri attori, le città intorno, le località intorno guadagnino tutte senza perderci. Organizzando bene le cose si può fare. Dottor Romano sappiamo bene che siamo in un momento di cronica carenza di fondi ma sappiamo bene anche che la provincia ha avuto o perlomeno avrà anche competenza su quelle che sono appunto parte delle infrastrutture. Ecco, lei pensa che ci sono dei progetti che possano valorizzare il tutto? Si parlava di caselle autostradavi, si parlava di una manutenzione migliore e anche di quelle che sono le strade di vostra competenza perché molte volte sono afflitte da tante problematiche che lei sicuramente conosce. Certamente sì, la provincia è una rete stradale di enormi dimensioni e possiamo dire che è la più estesa perché i comuni hanno la rete stradale interna dei centri abitati e quella che riunisce alle contrade, l'ANAS ha le grandi strade statali che però sono poche e le autostrade poi gestiscono le autostrade siciliane che sono un numero limitato ovviamente. Quindi la rete provinciale è enorme. Purtroppo è difficile gestirla con un bilancio che rispetto al 2010 ha avuto un taglio di trasferimenti statali del 90%, cosa che nessun comune ha subito. lo facciamo cercando di utilizzare i fondi europei che utilizziamo molto bene perché li intercettiamo tramite bandi regionali e allargando l'efficacia, l'impiego dei fondi europei non solo alla strada vincitrice ma alle strade limitrofe chiarendo prima quando si mette a bando una strada che la manutenzione riguarderà anche le aree connesse. In questo modo riusciamo a fare qualcosa ancora di positivo. Certamente vi sono delle crisi che sono fuori dalla nostra portata. La vicenda di Mongiuffi Melia per esempio la dice lunga. Tuttavia subito dopo abbiamo avuto una crisi simile su Mandanici la cifra necessaria era molto inferiore e siamo potuti intervenire tempestivamente. Adesso stiamo elaborando il bilancio 2014. Finalmente la provincia è un ente che ha il bilancio inizio d'anno mancano veramente pochi giorni all'approvazione e non ad anno finito. In questo bilancio siamo riusciti a risparmiare qualcosa e a mettere delle risorse, in particolare i costi della politica sulla manutenzione stradale e scolastica. Tanti grazie. Tanti grazie. Tanti grazie. Tanti grazie. Tanti grazie. Tanti grazie.